Potete far crescere la vostra attività trovando il modo di aumentare le vendite o cercando nuovi mercati. Per aumentare le vendite potreste dover introdurre nuovi prodotti o servizi, espandere il vostro mercato, aumentare le attività di marketing o migliorare il servizio clienti. Se siete un produttore, ciò potrebbe significare aumentare la vostra produttività per soddisfare la domanda. Introdurre nuovi prodotti o servizi Fornite una gamma più ampia di prodotti o servizi ai vostri clienti. Dovrete fare una ricerca sul vostro mercato per vedere se c'è un desiderio per l'offerta proposta. Prendete in considerazione la possibilità di utilizzare alcuni dei vostri clienti esistenti come gruppo di prova. Il feedback di un gruppo di prova può aiutarvi a gestire alcuni rischi e a capire come migliorare il prodotto o il servizio. Prestate particolare attenzione al marketing e alla promozione dei vostri nuovi prodotti o servizi, in modo che la gente li conosca. Espandersi in nuovi mercati nazionali L'espansione in nuovi mercati può essere costosa, ma può aumentare la vostra base di clienti. Le ricerche di mercato vi aiuteranno a capire il nuovo mercato potenziale e a definire una strategia. Dovrete anche considerare il marketing, le vendite, la distribuzione e l'aumento della produzione per soddisfare la nuova domanda. Migliorare i canali di vendita Valutare e ottimizzare i vostri canali di vendita potrebbe aiutarvi a raggiungere più clienti, ad aumentare il controllo del mercato e a migliorare la redditività. Ad esempio, potreste Fornire al vostro personale di vendita una formazione avanzata Contrattare rappresentanti di vendita indipendenti o assumerne di propri Aggiungere punti vendita al dettaglio Utilizzare rivenditori Implementare una strategia di e-business Attività di marketing Potreste essere in grado di migliorare l'efficienza delle vostre attività di marketing Tracciate i risultati del vostro attuale marketing o della vostra pubblicità e siate pronti a cambiare la vostra strategia se non state ottenendo i risultati desiderati. Studiate i clienti a cui vi rivolgete per sapere come raggiungerli al meglio e pianificate la vostra strategia di marketing. Di conseguenza Cambiare il prezzo Modificare i prezzi, i termini o le condizioni di fatturazione potrebbe stimolare la domanda di mercato per i vostri prodotti o servizi Informatevi sulle offerte dei vostri concorrenti e sui vostri margini di profitto per determinare se potete ridurre i costi Se non è possibile abbassare il prezzo, spesso è possibile influenzare i clienti migliorando un accordo con condizioni favorevoli Essere consapevoli della concorrenza Tenete sempre presente quello che fanno i vostri concorrenti Queste informazioni vi aiutano a capire i loro comportamenti, le loro capacità e i loro limiti Se avete questa conoscenza, sarete meglio preparati a difendere la vostra posizione di mercato, a reagire ai cambiamenti e a trovare nuovi mercati Migliorare le relazioni con la comunità Aumentate la vostra presenza e visibilità nella comunità Attività come la sponsorizzazione di eventi comunitari, la partecipazione a conferenze o il sostegno a una squadra sportiva locale possono far conoscere la vostra azienda e stimolare le vendite Non trascurare il servizio clienti Siate consapevoli della percezione che i clienti hanno della qualità o della reattività del vostro servizio clienti Il passaparola positivo di un cliente soddisfatto è prezioso per la vostra azienda Sapere quando fermarsi Se avete settori, servizi o linee di prodotti con bassi margini, scarsa redditività o costi di vendita eccessivi, potrebbe essere il momento di eliminarli Può essere difficile se avete degli impegni con le offerte esistenti, ma eliminare i prodotti o i servizi meno redditizi può farvi risparmiare denaro e permettervi di reinvestire in modo più oculato